benvenuti ragazzi finalmente in un nuovo video come vedete oggi ho qui con me la bellissima nuova daiva sling bag come potete vedere l'ho appena riempita pochi minuti fa guardate che bellissimi artificiali che ho voluto inserirci qualche minno come vedete qualche segnafiro qualche moschettone poi troviamo dei ondulantini qualche rotante diciamo c'è una varia ampia di scelta se si può dire che dire adesso tenteremo di prendere qualche trotta speriamo di fare qualche cattura la giornata sembra anche abbastanza bella basta parlare entrami in pesca ciao ragazzi allora benvenuti in questo video oggi andremo a provare in torrente un po di esche nuove eccole qua cosa cosa c'è qui allora sono prevalentemente tutti cucchiaini a parte un po di minno e due spuone però appunto proverò ad usare più cucchiaini sono quasi tutti del 2 e e nulla allora oltre a ciò abbiamo guadino gommato ci avete chiesto in tanti occhiali e direi di partire ciao raga no guardina la passa dentro è piccola piccolissima che spettacolo te lo ragazzi l'ho presa la praticamente sulla sinistra assurdo con tutta l'acqua che c'è lì sulla destra l'ho presa la come gira bene sei anche staccata la cucchiaino adesso proprio rapido facciamo a dire due minuti guardate che bello stupendo allora adesso posso che cosa qui aspetta eh proseguiamo a rilascio ragazzi vai assolutamente rapido vai andata uno zero è calmo che si arriva dopo la bellissima trota che abbiamo preso insieme ci spostiamo più verso monte ok esattamente andremo ancora a testare un po in torrente però vorremmo provare anche un laghetto che c'è qua sopra quindi ragazzi diamoci dentro cerchiamo di tirar fuori qualcosa anche al laghetto che un po che non facciamo si sperano torrente sì sì like like per la prima trota ciao raga sì 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 Grazie a tutti Ragazzi il tratto di torrente era piccolo e non abbiamo preso niente proveremo quale No va bene abbiamo preso una che ti ringrazio No nella parte dalla trota in poi E purtroppo il logo zero stamattina Abbiamo usato anche i vermi ma niente il logo Anche qualche artificiale abbastanza pesante ma zero a quota Nulla ragazzi vi lascio con questa bellissima panoramica e speriamo di fare qualche cattura Non grazie